L'energia 19, sabato 20 e domenica 21 novembre, Oristano sarà il teatro della terza edizione di Choco Moments. La formula di Choco Moments Oristano è vincente e molto apprezzata dal pubblico, spiegano gli assessori del turismo e delle attività produttive Massimiliano Sanna e Marcella Soggiu. Promossa da Choco Moments, che porta in ogni angolo d'Italia l'arte dei maestri cioccolatieri, la Kermess è patrocinata dal Comune di Oristano ed è sviluppata con il supporto e la collaborazione della Proloco. In programma le attività della fabbrica di cioccolato, contenitore di eventi pensato per permettere a tutti di calarsi nell'atmosfera di un vero e proprio laboratorio artigianale e gli stand della mostra a mercato. Il piatto forte della rassegna sarà l'irresistibile spettacolo della tavoletta da Guinness dei Primati, ben 15 metri di cioccolato preparato live dai maestri cioccolatieri in programma sabato alle 18.30. In programma anche il laboratorio dedicato ai maestri cioccolatieri, sotto l'esperta guida degli artigiani di Choco Moments, i bambini impareranno a realizzare con le loro mani squisiti cioccolatini da gustare a casa. A disposizione dei più piccoli tutto l'occorrente per dare sfogo alla creatività, grembiuli, capellini e attrezzi per la lavorazione. Si potrà anche partecipare al corso base di lavorazione del cioccolato, incontro formativo che consentirà di apprendere i primi trucchi del mestiere dagli esperti del laboratorio di cioccolato. Alle 18.30 di venerdì verrà realizzato lo show cooking, come nasce una sacher, mentre domenica alle 15 andrà in scena l'omaggio al territorio, con la realizzazione della pralina di Oristano, caratterizzata da un prodotto tipico della zona.